L'amministrazione comunale di Chieti avrà 20 giorni per presentare il bilancio consuntivo in Consiglio Comunale. Decorso tale termine, il prefetto sarebbe costretto a nominare un commissario sciogliendo di fatto il Consiglio. Dopo la nuova diffida comunque dovuta da parte del prefetto di Chieti al Consiglio Comunale, entro agosto si dovrà approvare il rendiconto, atto indispensabile per il passaggio del bilancio consuntivo in Consiglio Comunale. Saremo rigorosi sul rendiconto procedendo all'approvazione in tempi rapidi e rispondenti alle scadenze previste dalla procedura commissariale, rassicurano il sindaco Ferrara e l'assessore al bilancio Tiziana della Penna. Per questo non viviamo negativamente l'ammissiva della prefettura perché siamo certi che da parte del prefetto ci sia la massima disponibilità a sostenerci nel cammino di risanamento del lente che abbiamo intrapreso. Se è stato possibile arrivare a questo punto in tempi brevi, spiegano gli amministratori, è perché il lavoro di chiusura dei conti era in gran parte definito e di qualità, come ha certificato il commissario Filippo Rosa, incaricato dal prefetto. Il sindaco e l'assessore della Penna continuano affermando che non si tratta di una convinzione autoreferenziale, poiché i segnali sono incoraggianti circa il fatto che il percorso scelto sia quello giusto. Lo dimostra il risultato di essere riusciti a riportare la Cassa Comunale a un saldo positivo che al 31 dicembre 2021 era di circa un milione di euro, cosa che non si verificava da tantissimi anni. Siamo consapevoli delle difficoltà che abbiamo dovuto affrontare e che hanno inciso sui tempi del rendiconto. In questi giorni, concludono l'assessore della Penna e il sindaco, stiamo provvedendo alle notifiche necessarie all'approvazione del rendiconto in Consiglio e si aspetta a breve il parere del revisore dei conti per poter procedere all'approvazione. Consapevoli di tutto questo, non possiamo ricevere giudizi e lezioni, concludono l'assessore e il sindaco, da una minoranza che ha governato prima di noi e che non è stata capace di votare il proprio rendiconto.